Sì! Amo il mio lavoro! Allora andiamo, forza! Andiamo! Cal, ti sei divertito? Oh, già, è svenuto. È il bello del Natale passare del tempo con i propri cari. Per questo trasformerò Santa Claus in un'impresa di famiglia. Sandra, voglio che ti occupi delle renne. Oh, sì! E credo veramente che Cal diventerà un buon successore. Che cosa ci fai in casa mia? Scusa, scusa! La storia del pollo nord farà parte della formazione di Cal. Chi è Magnus Sandus? Un pazzo Santa Claus. E tu credi che dovremmo preoccuparci? Santa Claus? Io sono Santa Claus! Il solo è legittimo! Il Santa Claus che occupa il pollo nord ora è un impostore! È tempo di Santa Magia. La vendetta sarà rapida. E dolce sono Santa Claus, d'altronde. Buon Natale! Forse non lo sai, ma mi hanno ingiustamente esiliato dal pollo nord. È stato davvero meschino e anche molto sbagliato. Sì, me l'hai detto. La nostra famiglia è piena di magia. Non ci serve. Gary! Prendi il mio jetpack! Gary, prendi il mio jetpack. Gary, trovalo schiaccianoci. Gary, non devi mangiare il budino nella spazzatura. Quando la finirà? Sta venendo da questa parte. Calma, calma. Che cos'è? Un Friggi Santa Claus. Non mi piace che ci sia un'arma qui al pollo nord che si chiama Friggi Santa Claus. È così divertente. E buon Natale a voi.